puntata numero 9 la sofferenza nel mondo interessante teoria quella esposta nella puntata numero 8 e rifletto questa è davvero potrebbe essere la risposta alla grande domanda che tutti pongono agli uomini di fede di qualunque religione lasciandoli inevitabilmente senza parole perché dio se è così buono permette che nel mondo l'innocente soffra ci siano ingiustizie guerre morti e malattie la risposta a questa domanda la più difficile secondo la teoria sopresposta sarebbe immediata perché nulla di tutto questo esiste noi siamo in un'altra dimensione e dio permette questo per farci scoprire chi siamo veramente nella prova e nella difficoltà mostriamo il nostro vero volto il nostro profondo egoismo che ci fa fare le cose più abominevoli nei confronti del prossimo per non rinunciare a nessuna delle nostre piccole comodità in effetti nei comportamenti di tutti i giorni che diamo per scontati c'è un po di questa disumanità nessuno innocente di questo profondo abisso d'egoismo che fa in modo che il mondo continui ad essere una valle di lacrime quando potrebbe essere un luogo davvero paradisiaco qui si potrebbe aprire una discussione lunghissima che vorrei fare con uno come il mio amico fulgenzio anche per dargli qualche spunto portandolo su un terreno meno scientifico perché alla fine non si può ridurre tutto alla mera scienza altrimenti si rischia di restare con un pugno di sabbia in mano l'uomo è un essere pluridimensionale anche se per un paio di secoli si è insistito a negare fino all'evidenza questa profondità creando sistemi che hanno sviluppo il valore stesso della vita umana il grosso limite del liberismo e del comunismo è proprio questo quello di pensare l'uomo come un animale ad un'unica dimensione venendo meno ai valori spirituali ogni nefandezza era concessa e possibile e quindi si sono perpetrati orrori inimmaginabili per tenere insieme la popolazione sotto quella che poi è sempre diventata più o meno una dittatura che sia stato un sistema ultraliberista oppure un sistema comunista anche noi che crediamo di vivere in democrazia ci ludiamo soltanto viviamo in un sistema dove dominano i grandi poteri economici e noi siamo liberi di parlare solo perché non ci viene nessuno mattina a bussare la porta rispetto a quello che diciamo ma per il resto le nostre azioni sono assolutamente vincolate vedere l'uomo come un consumatore come un corpo e consuma e si offre permette alle persone di vivere anche un po meglio con maggior libertà rispetto al sistema del comunismo tuttavia tende anch'esso per sua natura a svilire e ridurre le a meri istinti i bisogni religiosi dell'uomo che sono parte di se stesso e non hanno nulla a che vedere con le gerarchie e sistemi economici che hanno costruito questo è una voragine che abbiamo dentro che deve essere colmata e che probabilmente deriva dal fatto che noi veniamo da una dimensione altra anzi siamo in una dimensione altra attorno a vivere con il pensiero continuo della morte con il materialismo spinto non ha mai fatto bene la salute per questo è evidente perché noi non siamo fatti così la nostra natura è quella di esseri probabilmente eterni che non fanno altro che vivere momentanamente in uno spazio limitato in un corpo per mettersi alla prova per vedere quello che valgono e quindi tutta la sofferenza che c'è sulla terra non ha nulla a che vedere con la realtà è solo la dimostrazione di quello che siamo veramente e purtroppo il giudizio per molti di noi non sarà assolutamente favorevole ricostruzione tratta dal libro l'eremita nella faggeta di alessio romanelli per leggere gratis le prime 30 pagine del romanzo andate su www.leremita.it seguiranno altri video iscriviti al canale